Colpo di scena nell'efferato omicidio di San Salvatore Telesino, l'auto Polo di Daniel, il rumeno di 21 anni, indagato per la morte di Maria, la bambina di 10 anni, continua ad essere al centro delle indagini. Lo è in particolare dal mese di luglio, quando sono sorti delle divergenze sui dati provenienti dai GPS, l'apparecchiatura che era installata sull'auto. Il GPS di cui il veicolo era dotato infatti colloca l'auto nei pressi di Piazza Pacelli di San Salvatore Telesino, dove c'erano le giostre sempre nella zona del casale adibito al ristorante nella cui piscina il 19 giugno fu trovato il corpo senza vita della bambina, ma il giovane rumeno aveva sostenuto che il veicolo era stato parcheggiato invece una trentina di metri più avanti e quindi non nell'area di Piazza Pacelli. Ora sui tracciati del GPS vi sono due perizie, una di parte ed un'altra fatta da un tecnico designato dalla procura. In quella di parte si sostiene che il GPS fornisce indicazioni approssimative. Nella perizia della procura si sostiene invece che in base al GPS l'auto era presso il casale. Da San Salvatore Telesino è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it